È vero, oggi vi daremo tanti consigli per mangiare in maniera più naturale. Perché? Beh, la scelta dei cibi, le scelte alimentari e le scelte del cibo influenzano molto anche le nostre, come dire, papille gustative, il nostro gusto. E allora, tanti consigli ci dirà per tentare di mangiare in maniera più semplice la dottoressa Raffaella Cancello, benvenuta, io ricordo, specialista in scienza dell'alimentazione all'IRCS, l'Istituto Oxologico di Milano. Allora, dottoressa, ognuno di noi è fatto in maniera differente, questo lo sappiamo per fortuna, dico, è una cosa anche molto bella, però questo vale anche per quanto riguarda la scelta del cibo. Molti di noi preferiscono cibi molto più dal sapore, molto più deciso, molti amano il dolce, molti amano il salato. Come mai esiste questa differenza? Allora, esistono queste differenze perché in realtà oggi si è capito che il gusto è qualcosa che coinvolge tutti i nostri cinque sensi, non è soltanto quello che avviene in bocca quando mangiamo. Pensiamo per esempio quando, non so, vediamo una tavola ben imbandita, un piatto ben porzionato, oppure, non so, sentiamo il profumo del cibo in cottura, uno degli aromi più graditi, per esempio, negli esperimenti di analisi del gusto è il profumo del pane caldo, oppure, non so, anche toccare qualcosa di croccante o percepirlo croccante in bocca. Ecco, tutti i nostri sensi vengono attivati e questa attivazione è ovviamente più intensa in bocca, dove c'è la lingua e le papille gustative. Però sia il gusto, diciamo, percepito dalle papille, sia l'aroma che percepiamo anche nel nostro cavo orale vanno ad attivare dei centri del piacere nel nostro cervello. E lì cominciano a prodursi dei mediatori del benessere, della gratificazione, del piacere, come la serotonina, la dopamina. E questo rende praticamente l'esperienza gustativa piacevole e, col desiderio di ripeterla ovviamente, crea la nostra memoria del gusto. Poi, a seconda anche delle nostre esperienze, noi creeremo la nostra soglia gustativa. Quindi è un misto di biologia, è un misto anche di comportamento, di esperienze. Molto affascinante, no? E in tutto questo è coinvolto anche il nostro cervello. Quanto è più plastico il nostro cervello? Probabilmente noi cerchiamo anche di captare anche quei gusti anche molto particolari. Ma tutto questo, adesso concentriamoci un po' sul gusto, sulle nostre papille. Perché alcuni di noi sono molto più sensibili al gusto? Allora, il gusto differisce in ognuno di noi e la sua base biologica è il numero, la tipologia, la distribuzione delle papille gustative sulla superficie della nostra lingua. Diciamo che negli ultimi vent'anni sono state fatte numerose ricerche che hanno dimostrato che in realtà le vecchie mappe, diciamo, di percezione gustative sulla punta, ai lati, in fondo alla lingua, sono un po' superate. Quello invece che fa la differenza è il numero e la distribuzione delle papille gustative. Così siamo riusciti a distinguere i cosiddetti supergustatori, che sono i soggetti che hanno una densità di papille estremamente alta e numerose papille, i normogustatori, che sono dei gustatori intermedi, e i non gustatori. Cioè ci sono persone che purtroppo hanno una densità di papille molto bassa sulla lingua, sono papille poco percettive e quindi hanno bisogno ovviamente di più stimolo. Cosa significa più stimolo? Significa aggiungere per esempio più sale a una chietanza, significa mangiarne di più e quindi questo rappresenta un grosso rischio per la nostra salute, perché vuol dire che quando mangio di più tendo ovviamente a un sovrappeso, a sviluppare anche un'obesità e quindi bisogna fare attenzione. Fare attenzione e tutto questo non si ferma qui, perché all'Università di Milano, pensate un po', c'è un laboratorio di analisi sensoriale che proprio cerca di capire, di captare proprio queste differenze e come vanno poi orientate anche le nostre scelte degli alimenti. Guardiamo insieme. Ci troviamo nel laboratorio di analisi sensoriale Consumer Science dell'Università degli Studi di Milano che ho fondato nel 1999 per studi di ottimizzazione e controllo della qualità sensoriale degli alimenti per valutare le preferenze e i comportamenti alimentari anche di popolazioni sensibili come ad esempio i bambini, gli anziani, gli obesi. Negli ultimi anni stiamo investendo molta energia nello studio dei fattori legati alla percezione dei nostri organi di senso e come questa percezione sia legata in qualche modo allo stato di salute degli individui. Abbiamo riscontrato che gli individui obesi hanno una percezione distorta degli stimoli gustativi rispetto al normo peso e in particolare hanno bisogno delle concentrazioni più elevate, per esempio di zucchero o di sale, per percepire allo stesso modo degli individui normo peso. Qui ci troviamo in una delle aree del laboratorio di analisi sensoriale dove vengono svolti gli assaggi individuali. Negli ultimi anni ci siamo dedicati allo studio delle interazioni multisensoriali di diversi stimoli come per esempio il gusto salato e l'aroma di pane e come questi vengono ricevuti ed elaborati a livello cerebrale tutti in un'unica informazione complessa. Ma praticamente come ci può venire utile questa disciplina? È possibile ipotizzare di utilizzare questa interazione per mettere a punto dei prodotti alimentari che abbiano meno calorie ma che siano comunque graditi da parte del consumatore. È noto che però esiste una variabilità tra gli individui, c'è chi ha più papille e chi ne ha meno. Ma esiste un modo per quantificarle? Ebbene sì, possiamo proprio contarle con un colorante alimentare blu. Abbiamo proprio appena visto un sistema che stiamo attualmente utilizzando per studiare la possibilità di ingannare i nostri sensi per fornire nuovi approcci che siano a supporto di quelli dietetici per ridurre il consumo di prodotti calorici e ricchi di sale. Quanto è importante sapere quante papille gustative abbiamo, dottoressa? Questo è importante soprattutto per combattere l'obesità che è una patologia molto invalidante e sta diventando anche una delle cause di morte nel nostro mondo occidentale. Per cui oggi noi vi daremo tanti consigli proprio per optare a delle scelte più naturali. Ora partiamo dal sale. Sì, partiamo dal sale perché è uno degli alimenti su cui tutti rischiamo di andare in eccesso. Il sale, in realtà, la dose raccomandata o raccomandabile sono 5 grammi al giorno. 5 grammi per intenderci può essere un cucchiaino da tè o un misurino di questa capacità se lo abbiamo a disposizione a casa. Infatti stiamo leggendo, dottoressa, cucchiaio da minestra sono 10 grammi, il cucchiaio da tè sono 5 grammi, il cucchiaio da caffè sono 3 grammi. Super giù. Sono misure orientative perché magari pesare stanca un pochino. Quindi è giusto anche utilizzare degli utensili di uso comune da cucina come possono essere i cucchiai che abbiamo a casa. Ecco, qua li vediamo proprio rappresentati, proprio per facilitare anche la misurazione del sale. Quello più piccolino da caffè è quello che contiene circa 3 grammi. Naturalmente bisogna fare una capacità rasa, non bisogna sovraccaricare il cucchiaio. Eh sì, poi faremo vedere esattamente che cosa significa. È questo per intenderci il cucchiaino che dovete utilizzare. Esatto, quello più piccolino. Questo più piccolino, non questo è da te. E questo è, abbiamo detto, raso. E poi vedremo esattamente quale consiglio ci darà. Forse un po' troppo ne ho messo. Ne ha messo un po' troppo, Monica. Però l'altro consiglio è di metterlo su un piattino, proprio come ha fatto, e poi di metterlo con i polpastreni. E poi lo faremo vedere, proprio per dare dei consigli finali alle nostre amiche che ci stanno seguendo, per cucinare appunto in maniera meno saporita, ma sempre più gustosa, perché dobbiamo sentire il sapore degli alimenti. Però c'è un però, dottoressa, perché il sale è nascosto. Dobbiamo parlare di questo sale che purtroppo noi negli alimenti comuni mangiamo inconsapevolmente. Come facciamo ad accorgercene, dottoressa, dalle etichette? Questo sale che noi aggiungiamo è quello che noi chiamiamo in gergo tecnico sale discrezionale, cioè che io a mia discrezione aggiungo e quindi è facilmente controllabile. C'è però tutta una serie di sale nascosto che noi assumiamo senza rendercene conto nei prodotti industriali a incarto. Va detto che il sale è un conservante e quindi è in tantissimi alimenti dell'industria alimentare. Per cui il consiglio che possiamo dare a chi ci ascolta è di leggere sempre accuratamente le etichette e soprattutto una parte che si chiama tabella nutrizionale. La tabella nutrizionale ha sempre l'indicazione del sale contenuto per 100 grammi di prodotto e orientativamente noi dovremmo prediligere i cosiddetti cibi a basso tenore di sale che è 0,3 grammi per etto di prodotto. Poi ci sono quelli a medio contenuto che sono comunque accettabili tra 0,3 e 1 grammo. Sopra 1 grammo, 1,2 grammo per etto attenzione perché vuol dire che stiamo mangiando già molto salato e quindi a questo punto dovremmo rinunciare al cosiddetto sale discrezionale proprio per non passare la soglia dei 5 grammi al giorno. Questi sono dei consigli che un po' tutti noi dovremmo prendere e seguire. Però ci sono altre persone che magari ci state seguendo tante persone che soffrono di ipertensione. A maggior ragione che tipo di dieta devono seguire, dottoressa? Esatto. Nel caso di ipertensione è fondamentale limitare fortemente il sale aggiunto. Quindi stiamo sui 3 grammi al giorno e fare molta attenzione ai cibi confezionati che in genere vanno esclusi. Ci sono però degli alimenti che ci aiutano e c'è uno schema alimentare che si chiama dieta DASH. È un acronimo inglese che sta ad indicare dieta a basso tenore di sodio per controllare l'ipertensione e che prevede per esempio alimenti come il pane sciapo, il pane toscano che è senza sale, l'utilizzo di cereali integrali, pasta integrale, pane integrale, tutti i latticini scremati perché bisogna stare attenti anche ai grassi saturi, libertà su frutte e verdura fresche e di stagione e condire con i grassi buoni come l'olio extravergine d'oliva o inserire ogni tanto qualche seme a guscio, noci, nocciole e mandorle. Naturalmente poi questo schema alimentare va inserito anche in un contesto di vita sana e quindi mantenersi attivi è fondamentale e nel caso che ci sia l'abitudine al fumo sarebbe meglio sospenderla e quindi il cuore così avrà grande beneficio. È questo, grande beneficio. Allora, dottore, se dobbiamo dare consigli anche molto pratici perché con il sale noi abbiamo un cattivo rapporto. Non c'è niente da fare quanto ci piace aggiungere quel sale in più che probabilmente chi ha più o meno papille gustative come abbiamo visto, c'è appunto l'Università di Milano stanno studiando e beh, questo è un test anche molto importante da fare proprio per combattere l'obesità. Allora, lei prima mi diceva come possiamo fare, come ci possiamo orientare per condire il nostro piatto? Allora, per fortuna abbiamo delle astuzie che ci vengono in aiuto e ci sono anche degli alimenti che conferiscono sapore senza aggiungere sale. Abbiamo visto in commercio forse qualcuno che ci ascolta lo conosce il famoso gomasio che è un finto sale. In realtà sono granelli di sesamo sminuzzati finemente venduti in barattolino che si possono usare come un sale. Sono percepiti molto sapidi in bocca ma non hanno sodio e quindi si può usare liberamente. ci sono anche delle radici un po' piccanti delle spezie come non so il rafano lo zenzero grattato finemente conferisce sapore pepe e peperoncino con parsimonia ma possono essere ovviamente utilizzati è utile anche fare le marinature con l'aceto di mele l'aceto di vino oppure con gli agrumi limone, lime, arancio aiutano a rendere saporito il piatto senza aggiungere troppo sale. Qualche granello di lievito anche si può utilizzare. E poi sul sale aggiunto mettercelo da parte e poi aggiungerlo aggiungerlo proprio così con i polpastrelli con dei piccoli gesti e a fine cottura proprio prima di iniziare a consumare il piatto in modo da percepirlo bene ma non farlo assorbire troppo e nasconderlo dall'alimento. Grazie alla dottoressa Raffaella Cancello grazie per aver citato questi consigli grazie a tutti